Frequently Asked Questions 2 Che cos'è un'economia basata sulle risorse? Per trascendere le nostre limitazioni, il VP propone che ci impegniamo per la realizzazione di un'economia basata sulle risorse, o cosiddetta RBE, Resource Based Economy, globale, in cui le risorse del pianeta sono eredità comuni di tutti i suoi abitanti. Le pratiche attuali di razionamento delle risorse attraverso metodi monetari sono irrilevanti, controproducenti e per nulla adeguate alle necessità dell'umanità. Per dirla semplicemente, un'economia basata sulle risorse utilizza le risorse esistenti, invece del denaro, per garantire un metodo di distribuzione eguale, nel modo più umano ed efficiente possibile. Si tratta di un sistema in cui tutti i beni e i servizi sono disponibili a chiunque, senza l'uso di denaro, credito, scambio o qualunque altra forma di debito o schiavitù. Per comprendere meglio un'economia basata sulle risorse, considera la seguente proposizione. Se tutto il denaro mondiale dovesse scomparire domattina, fin tanto che il soprassuolo, le aziende, il personale e le altre risorse rimangono intatte, possiamo produrre tutto ciò che ci serve per soddisfare i nostri bisogni. Alla gente non serve denaro, piuttosto l'accesso gratuito alla maggior parte dei bisogni, senza doversi preoccupare di avere una stabilità finanziaria o dover avere a che fare con la burocrazia governativa. In un'economia basata sulle risorse, basata sull'abbondanza, il denaro diventa irrilevante. Siamo giunti al punto in cui la scienza e la tecnologia possono fornire abbondanza per tutte le persone del mondo. Non è più accettabile continuare il blocco intenzionale dell'efficienza attraverso l'obsolescenza programmata, perpetuato dai vecchi metodi dettati dalla logica del profitto. Se siamo veramente interessati all'ambiente e alle persone, se vogliamo davvero porre un termine alle dispute territoriali, alla guerra, alla povertà e alla fame nel mondo, dobbiamo riconsiderare i processi sociali che ci hanno portato ad un mondo dove questi fatti sono comuni. Che ti piaccia o meno sono i progressi sociali, le pratiche politiche, le credenze, l'economia basata sul profitto, le nostre norme di comportamento guidate dalla cultura, che ci hanno portato alla fame, alla guerra, alle malattie e ai danni all'ambiente. L'obiettivo di questo nuovo progetto sociale, chiamato in inglese Social Design, è promuovere un sistema di incentivi non più diretti ai fini egoistici di ricchezza, proprietà e potere. Questi nuovi incentivi incoraggeranno le persone a raggiungere il proprio potenziale e creatività, sia materiale che spirituale. Grazie a tutti.